gentili telespettatori buona giornata qualcuno parla del miracolo tra il primo miracolo di berlusconi tra sette giorni la schline sparirà che vuol dire tutto pronto per il primo miracolo di berlusconi tra sette giorni esatti infatti potrebbe arrivare un'altra botta stratosferica per il pd che metterebbe in discussione ormai la già indiscussa ellis line domenica 25 lunedì 26 si vota in molise regione già sotto il controllo del centrodestra i sondaggi sono impietosi per la sinistra perché oggi anche con la scomparsa di berlusconi il centrodestra è ancora più forte perché il in alcuni sondaggi addirittura forza italia è sopra il 10 per cento la lega intorno al 9 per cento fratelli d'italia uscilla tra il 28 e il 30 per cento pertanto c'è un incremento addirittura del centrodestra perché non perché stia rubando dei voti alla sinistra ma sta diminuendo l'astensionismo molti che di centrodestra magari che non avevano votato non hanno intenzione di votare con la scomparsa di berlusconi sono intenzionati a votare per forza italia quella prima votazione vado a votare faccio l'ultimo omaggio al cavaliere con forza italia che ha trovato dei picchi anche del 12 per cento e così la vittoria nel molise che già data con un vantaggio del minimo 8 per cento del centrodestra sul centrosinistra sull'onda emotiva della scomparsa del cavaliere il peso di forza italia potrebbe essere determinante per una sconfitta ancora più forte della sinistra in quella regione bisogna ancora attendere qualche giorno ma di fatto appare ormai segnato il pd avrà al 99,9 per cento un'altra batosta elettorale che sarà davvero ma davvero forte intanto vi racconto un'altra roba un'altra cosa ogni tanto parlo come bersani un'altra roba non si non si parla con roba si utilizzano altre altre frasi parliamo ancora di giuseppe piero detto beppe grillo il comico genovese torna a dire sciocchezze dice io darei il voto ai sedicenni questa non è neanche una cattiva idea la sinistra cerca di prendere voti dovunque ci siano la sinistra crede ingenuamente che i sedicenni voterebbero per loro dice vanno ancora a scuola a scuola gli fanno una testa tanta che la sinistra è meglio sapete che a scuola ancora abbiamo abbiamo molti di sinistra molti che erano entrati nella scuola perché di sinistra sapete come ha funzionato fino a qualche tempo fa nella scuola no entravi facevi carriera solo se eri di sinistra quindi oggi l'indottrinamento scolastico sinistro è ancora presente l'ho vissuto io quando ho fatto non ho finito l'università all'insubria a varese ho fatto solo 18 esami poi ho fatto mi sono laureato in storia da un'altra parte ma lì all'insubria di varese io avevo un professore di diritto che faceva chiaramente propaganda per il partito democratico proprio ce lo diceva io prossima settimana ho un comizio se volete venire come dire se volete venire ecco pertanto io l'ho vista l'ho visto l'indottrinamento comunque questo ti parlava di berlusconi ai tempi e ti parlava di diritto e ti parlava di politica tutto con una visione di sinistra ovviamente e ti faceva capire che tutto quello a sinistra era giusto quello dirai tutto sbagliato come al solito quindi ovviamente quel puntare al voto ai sedicenni nell'immaginario della sinistra è visto che gente che va ancora a scuola può essere condizionata condizionabile pertanto con dando il voto ai sedicenni 16 17 due anni in più di votanti e qua facciamo su voti ampliamo la platea elettorale ma dai sondaggi però spiace per i sinistri i sondaggi dicono che sedicenni e diciassettenni voterebbero in maggioranza per il centrodestro e vabbè grillo giuseppe piero insomma e poi dice dovremmo togliere il voto agli ottantenni poi sono andato a vedere giuseppe piero grillo detto beppe va per i 75 anni quindi caro giuseppe piero grillo detto beppe anche tu sei quasi da togliere il voto perché anche tu hai quasi 80 anni perché vuoi togliere il voto a delle persone sagge più 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 sei grande d'età in teoria più dovresti avere esperienza di vita aver visto tante cose quindi credo che sia più giusto dare il voto agli ottantenni che darlo ai sedicenni ecco io sono d'accordo sul voto ai sedicenni perché la sinistra può andare ancora più in giù ma togliere il voto agli ottantenni è una sciocchezza no dire tu hai diritto di voto fino a 80 anni a 81 già non sei buono manco per manco per votare e no questa è una sciocchezza che lui ripete ogni tanto ma parliamoci chiaro lui deve deve comunque dire qualcosa deve deve dire qualche fesseria ogni tanto quindi ovviamente ovviamente sto sistemando qui un arco di luce che naturalmente le cose piano piano si rovinano non si può pretendere che le cose siano sempre funzionino sempre in realtà andava solo girato si era un po svitato di cosa sto parlando dell'arco di luce io ho un arco di luce di qua e un arco di luce di là perché se no risulta risulta un video con poca luce quindi ho questi due archi di luce la luce qui della stanza perché i video devono essere luminosi va bene quindi vi ho raccontato anche questa degli archi di luce Beppe Grillo con gli ottantenni e queste cose qua bene grazie a tutti arrivederci a presto ci vediamo tra una no non ci vediamo tra una ventina di minuti ma ci vediamo domani mattina con gli altri video io per oggi ho finito vi saluto e vi mando un abbraccio a tutti arrivederci grazie ricordatevi che c'è anche tele italia seconda rete che ha superato i 25 mila visualizzazioni ha delle visualizzazioni veramente importanti è veramente veramente importanti lì c'è solo un video al giorno ogni tanto c'è qualche video di fai da te però c'è un solo un video al giorno e quel video viene visto molto molto frequentemente quindi è un canale che sta vi invito a dargli un'occhiata grazie a tutti arrivederci